Questa è una canzone che si propone essere gentista Perché è piena di luoghi comuni e unicipi Questa te la potevi risparmiare Sì lo so, ma mi è venuto un impulso Un po' come alla Boldrini viene l'impulso di accogliere i migranti a spese dei Poveri italiani che non arrivano a fine mese E Renzi che fa? Non si dimetterà No, Renzi non si dimetterà Non si dimetterà E la Boldrini si sa Li accoglie tutti per poter usufruire a gratis del loro penedebano Sento che ci vuole un cambio di accordi No, non per forza Perché no? Parliamo di un altro soggetto molto interessante Alfano Aiaiai Alfano dimettiti Domani 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 Grazie.